e pianta la foto una lapide di governo, che la lapide è tutto qua, tra questi ragazzi c'è lui, c'è lui, c'è solo un pochettino che purtroppo hanno preso il visto di inveccare un pochettino e questo è il 31esimo anno per noi siamo convictati, da qualche anno qua purtroppo abbiamo anche male compagnia, però questo è l'appuntamento della Catania a Cilindra e il motivo per cui mi chiedevi non era una persona importante, era uno così, uno di noi voglio dire e quindi è stato naturale che a un certo punto le persone non importanti di Catania, che ti posso dire la gente dello stadio, i ragazzini delle scuole a un certo punto andavano a ridurre, e questa è la cosa più forte, questo è il cuore di Catania, a volte siamo stati 15 e a volte 30 però non c'è stato un anno in cui questa giornata è stata passata, ecco, in questo momento voi dove state di sede? il sito vostro, dove è? Napoli e Milano molto bene, allora noi a Napoli abbiamo un giornale che si chiama Napoli Mondo, che esiste da una buona quindicina di anni lo firmo io per arrendere